I prodigi del pensiero positivo di Amadeus Waldben, 44esima lettura. Irradiate i pensieri ovunque. Imparare a irradiare serenità senza parsimonia, generosamente, senza riserve, e costruire la vita nel senso migliore. Irradiatela nella vostra casa, per le strade dove passate, nell'auto, sul luogo della vostra attività, dappertutto dove siete e dove andate, come la rosa spande il suo profumo e la sua bellezza. Irradiatela su chiunque vedete o incontrate, amici e conoscenti, nemici e sconosciuti. Quando noi comprendiamo che i pensieri d'amore guariscono, che mettono un balsamo alle ferite, che pensieri di armonia, di bellezza, di verità elevano e nobilitano sempre, che pensieri negativi seminano distruzione e morte, noi non ci sazieremo di irradiare l'amore e il bene su tutti. Allora avremo trovato il segreto della vera maniera di vivere. La fede è compagna di chi pensa costruttivamente, è certezza interiore, visione dello spirito che non si ferma al presente, ma abbraccia con amore il tutto. Verrà il tempo in cui si scoprirà che è infinitamente più facile fare il bene che il male, costruire che demolire, amare che odiare, unire che dividere. Il tempo in cui gli uomini praticheranno la regola d'oro che porterà l'armonia e il bene universale.